Dopo cinque anni passati ad allenare l'Italia, di cui sono stato anche allenatore responsabile, diciamo che il mio periodo era arrivato alla fine, ho avuto la possibilità di lavorare con la squadra di combinata nordica americana e dalla primavera scorsa sono stato spostato con le donne come allenatore responsabile per le gare internazionali e per la parte tecnica.